adesso siamo riattivato la torre radio lo sapevo! è troppo semplice è troppo semplice è troppo semplice sto gioco io lo sapevo salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente su pokemon crepuscolo ragazzi prima di iniziare ci tenevo solo a informarvi che questo non lo vedete ma è un ambiente totalmente diverso da camera mia, non lo vedete perchè sono al buio ma io sono in un luogo completamente diverso questo episodio lo sto registrando alle 11 fottute di notte io ho seriamente paura, anche per questo non dovrò urlare, ragazzi prima di iniziare vi avviso che pokemon crepuscolo non è uscito per tanto tempo per un semplice fatto, ho dovuto rifare tutto il gioco in quanto era davvero troppo difficile andare avanti con un ps, cioè non è che era troppo difficile, era impossibile quindi ho rifatto il gioco, come vedete ho la vita intera, ho ucciso tutti gli zombie della città, ho fatto un po' di pratica mi sono allenato, mi avete dato tanti consigli negli scorsi episodi, ho apprezzato tantissimo e ho ancora qualche cura dell'infermiera gioia a disposizione per il futuro se non sbaglio grazie gioco, se non sbaglio dicevo dovrei avere anche una bacca si esatto, è proprio così e nulla, mi scuso se venerdì non sono usciti i video ma ho avuto dei problemi legati a internet e anche ad altre cose che ora non vi sto raccontare perchè ho sbagliato tutto, perchè diciamo, siamo in ambiente creepy, allora dobbiamo premere se non ricordo male questo pulsante poi penso sia un pulsante ok questa cosa qua l'abbiamo già fatta nello scorso episodio ma tipo era impossibile andare avanti e quindi non me la ricordo più è successo qualcosa, ok si è aperto il cancello con quel magnemite impazzito ora io ho paura però avendo fatto un po' di pratica dovrei essere in grado di c'ho paura allora fermi come si sparava, come si sparava no sto figlio di puttana quanto corre cazzo ho messo in pausa al posto di ok ho degli spasmi muscolari ho degli spasmi ok l'ho preso, forse l'ho preso eh, forse non avrei dovuto ok no, muori bastardo di merda mi ha colpito ok 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 l'ho frantumato in mille pezzi perfetto ok aspettate queste scale qua prima non c'erano no no, 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 no no, fermi ah, ok, ok no, si, sto sclerando laga, sto sclerando stavo sbagliando strada devo andare di qua hashtag creepy sclerato veramente ok questa cosa qua non me la ricordavo effettivamente eh muori 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 no, bastarda eh, cazzo ok eh, ho perso un po' di vita ma l'abbiamo seccata eh, io qua suppongo che non si possa salvare vero eh, mannaggia perché adesso raga arriva quel ratata infame dello scorso episodio vabbè raga noi ci proviamo che ci devo fare allora premiamo questo pulsante che riattiverà l'energia della torre siamo già a due minuti eh, sì c'è poco da gioire adesso arriva il ratata raga è pericolosissimo quel coso ora dovrebbe funzionare finalmente possiamo chiedere aiuto torniamo al nascondiglio eh magari ok di solito io non ho paura di un ratata però in questo caso mi sa che urge avere paura di ratata muori ok fermi fermi sì 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 ce l'ho fatto mi stavo cagando sotto ce l'ho fatto quanti PS ho 5 e di ok se non avessi usato la bacca avrei perso ditemi che non ne sono apparsi altri perché se sono apparsi altri zombie vi giuro che sclero male veramente allora torniamo giù velocemente perché non ho più intenzione di stare in questo posto infernale dove nello scorso episodio ho tirato giù i calendari proprio e usci no 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 oh figa no non ci credo no 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 che due coglioni dio io esco no non mi fa uscire è notte non devo urlare 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 è notte non devo fottuto urlare che due coglioni io manco l'avessi saputo vi giuro e io lo sapevo tra l'altro guardate li ho seccati tutti dal primo all'ultimo non ne potevo più chi odio cioè raga vi sembra una cosa normale veramente ma dai come cioè io sono un guru perché ho previsto tutto cioè ed è un fisso no che due coglioni allora dobbiamo cercare di perdere meno vita con il ratata raga non c'è molta scelta con il ratata e anche provare a seccare il magnemite sul posto allora qua apriamo la roba di sotto perfetto però sbrigati figliolo perché altrimenti qua non ce facciamo più grazie ok perfetto tra l'altro io ho l'ansia che questi cadaveri per terra prendano vita e porco te allora dai forza su muori eeeh dove ho sparato ho sparato in Canada ho sparato ok l'ho preso no non fare le bete strozzo ok t'ho colpito però eh eh c'è la mamma puttana e vabbè succede ogni tanto ok perfetto è andato a casa adesso c'è il ratata no non è vero c'è la troia c'è la troia immonda c'è oddio calma eh l'ho mancata tantissimo proprio proprio preso l'aria di prepotenza ok l'ho colpita ma voi dite che se io esco dentro dalle scale funziona non funziona non funziona decisamente adesso lo scopriamo subito ok non si funziona buona questa qua mi sembra una strategia più che accettabile ok non abbiamo perso vita contro questa qua adesso c'è solo il ratata da seccare raga se non ce la faccio in questo caso io taglio e ci becchiamo fuori dalla torre radio ok perfetto ce l'abbiamo fatta di nuovo dicevo se non ce la faccio in questo caso qua taglierò tutto e ci beccheremo alla fine di questa cosa qua perché cioè è veramente è infattibile eh l'ho preso ok uh 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 bastardo non va oltre il tavolo ma le leggi della fisica ma non te le hanno mai insegnate ok raga ce l'ho fatta con una nonchalance incredibile stavolta bracere è la mia salvezza senza bracere io sono letteralmente fottuto raga ok adesso c'è l'ultimo infame io poi spero di poter tornare nel mio hideout perché veramente sono fuori dal 46 dopo cristo porca troia forza vediamo un po' si alzati e seccami sul po' effettivamente non ci avevo pensato che ammazzandola avrei potuto infettarla dato che siamo in una città che evidentemente c'è qualche contaminazione strana avrei potuto risparmiarmela come cosa muori 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 vieni qua se guarda lo stronzo dove sta muori ok l'ho seccato perfetto ok serve mantenere la calma in questo gioco ho capito che serve mantenere la calma ora è finalmente morto è stato morso no aspetta è stata colpa mia se è stato se si è mutato voglio solo andarmene da questo posto oddio raga per un momento ho pensato che siccome era stato morso da brando brando in realtà stesse diventando zombie anche lui non è stato per niente beh tu non c'eri prima non c'era prima l'avete visto anche voi che non c'era prima devo seccarne un'altra e che due scoglioni allora fermi squalo 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 levati muori ok perfetto raga me li levo subito questi perché altrimenti sclero male vieni qua vieni qua no eh si che cazzo sei vasco rossi ciao valentino rossi che curvi come se non ci fossero domani ok questa l'ho steccata vediamo se ci sono altri infami in giro per la città ma non mi sembra sinceramente forse possiamo tornare finalmente al nascondiglio ok vi avevo fatto vedere nello scorso episodio si ve l'avevo fatto vedere la quest del negozio delle bici quindi nessun problema ok raga fermi io salvo perché non si sa mai che mi trovo uno zombie in casa potrebbe tranquillamente darsi ormai in questo gioco me l'aspetto di tutte allora vai for oh oddio questo don qua mi fa sempre prendere un coccolone di quelli raga ok perfetto eccoci qua finalmente possiamo parlare credo con ok si quelli è Arnold con tizio di cui non ricordo il nome Dave Dave mi stai prendendo in giro che cosa sta succedendo Ethan mi hai mandato proprio mi hai mandato in una trappola di morte ammettilo sapevi che sarei andato you knew what sapevi quello che stava succedendo qui e non ce l'hai detto tutti questi infetti tutti questi infetti cadaveri sangue anche uno del team rocket era là dentro cosa? Ethan ma che stai dicendo? non riesco a capire stai bene? tu e il tuo cui lavoro raga non ho capito neanche io sinceramente di cosa lo sta accusando si lo siamo e abbiamo liberato la torre spero che ora tu sia maledettamente soddisfatto aspetta un attimo team rocket che cosa ci fa team rocket a Fjordoropoli e verosimilmente sta prendendo la torre era semplicemente uno qualcuno che voleva semplicemente sopravvivere voleva? non ce l'ha fatto ok perfetto non è così importante in questo momento ma se hai riuscito a rimettere a posto la centralina telefonica penso che ora I think that work was hell worth it boh raga è allucinante sto font veramente creatore fatti meno di cheta e non lo so cambia font ma Ethan sono così dispiaciuto mi dispiace non sapevo quello che stava succedendo lì pensavo che la la torre radio would think about getting into the radio tower ah ok pensavo che a causa del del taglio della corrente nessuno pensasse di entrare alla torre radio ok ora non importa però voglio semplicemente sapere quello che sta succedendo a Newark Town devo chiamarli adesso ok raga questo qua penso sia tipo il momento della verità non vorrei dirlo però ok forse devo utilizzare il pochi gear ok ok sto sbagliando tipo tutto ok raga sto sclerando sto sclerando ok devo scegliere chi chiamare chiamiamo professor Elmo che potrebbe essere più informato rispondi fra ha risposto oddio non mi piace sta musicatta raga cosa sta succedendo ciao qui è il professore Elmo chi è professore sono io Ethan Ethan cosa stai bene si lo sono va tutto bene grazie a dio mi fa piacere di sentirlo no raga qua qua come l'impressione che gli entra uno zombie in casa lo secca sul posto che cosa sta succedendo a Newark Town come sta mia madre e Krista è con te Krista penso sia Setra non vorrei dire una cavolata tua madre sta bene come tutti a Newark Town non ti preoccupare ma purtroppo Krista ha lasciato Newark Town sfortunatamente Krista ha lasciato Newark Town qualche giorno fa non l'ho sentito niente non mi ha detto nulla cioè non ho sue notizie in pratico no ok raga se è Setra ho paura che sia la pensione poca sinceramente ascolta Ethan il telefono la linea telefonica è stata tagliata in tutta Yoto ho provato a chiamare ho provato a chiamarti qualche ora fa ho semplicemente il telefono di emergenza qui con me non riuscirò ah non raggiungerai nessuno là fuori questo vuol dire che questo questo disease disease penso sia malattia una roba del genere questa malattia si è sparsa per tutta Yoto sembra proprio che sia così disease o disagio non è disagio penso sia un qualcosa legato alle malattie raga we are you right now forse where are you right now noi siamo te adesso sarà where are you right now dove sei adesso stai bene sono nel nascondiglio da qualche parte nella città di golden road city con altri sopravvissuti fiordoropoli è piena di infetti persone e pokemon abbiamo cercato di trovare qualche modo per scappare ma sembra più pericoloso sai qualcos'altro sai qualche metodo per scappare non hai qualche pokemon che ci potrebbe aiutare mi dispiace etan non posso fare nulla scusami quando le persone hanno reali hanno si sono accorte di questa apocalisse hanno preso i loro pokemon dal sistema dei box le persone che possedevano i pokemon volanti e i pokemon di tipo acqua sono riusciti a scappare in sostanza quindi se ne sono andati permanentemente più o meno si ma molti allenatori non ci hanno pensato e i loro pokemon e i loro pokemon dovevano anche dormire e riposare un metodo che è andato male per alcune persone non ho nessun pokemon per te ok non ho capito bene ma sembra che alcuni allenatori abbiano sfruttato i pokemon di tipo volante acqua per scappare ma che alcuni di loro non abbiano considerato che questi pokemon qua avrebbero dovuto mangiare e bere quindi sono finiti nella merda come tutti in sostanza c'è qualche altra opportunità qualsiasi come ti ho detto non posso fare nulla mi dispiace etan ma è un'ottima cosa che tu abbia trovato questo nascondiglio che hai menzionato dovresti essere al sicuro in questo momento professore tu riesci a sapere sai cosa sta succedendo qua voglio dire da dove vengono questi non morti do you know sai sai come è successo tutto ciò no non ho nessuna informazione su ciò la causa dell'infezione è sconosciuta perlomeno per me non ho nessuna idea c'è qualche speranza per trovare un vaccino anche in questo caso non ho nessuna informazione mi spiace sto cercando di sto studiando diciamo sto facendo le ricerche sul dna di queste creature qualche ora fa ho mandato il mio assistente a ottenere qualche cadavere dovrebbe tornare presto forse posso trovare una soluzione madonna raga la telefonata più lunga del secolo come stanno i tuoi pokemon il tuo quilava brando sta bene perchè non si permette queste risposte dei pokemon mi fa piacere sentirlo raga veramente io ho come sensazione che gli entrano zombie in casa allo squarto di prepotenza abbiamo combattuto quei mostri insieme ci siamo allenati abbastanza bene hai combattuto i non morti ah no cazzo ho detto male scusate etan fai attenzione una volta morsi si verrà trasformati in dei non morti una cosa interessante ho trovato questi infetti alcune volte hanno alcuna hanno alcune memorie rimaste dai tempi in cui erano ancora vivi sia che siano umani sia che siano pokemon ho mandato alcuni ho visto alcuni pokemon infetti che possono ancora utilizzare loro attacchi cioè nonostante queste creature sono molto pericolose con o senza memoria saremo no cioè non ditemi che adesso ci arrivano i pokemon che mi sparano il bracere a me minchia veramente sarebbe un'altra proprio non ti avremmo potuto chiamare se brandon non avesse se io e brandon non avessimo riattivato la torre radio lo sapevo è troppo semplice è troppo semplice è troppo semplice sto gioco io lo sapevo perfetto capisco etan c'è qualcosa che ti devo dire qualcosa di molto importante solo alcune persone lo sanno vaffanculo qua mi molla col segreto a metà tutti tutti coloro che hai incontrato ayoto anche noi tutti noi siamo morti siamo si suppone adesso pro professore professore che cosa è successo non mi sembrava una buona cosa oddio spero che stia tutto bene proviamo a chiamare l'altra gente raga tanto vale proviamo con crista cazzo è vero che non possiamo chiamarli vediamo cosa da dirci Dave allora che cosa sta succedendo che cosa ha detto il professore ha detto che non ci può aiutare e che non c'è nessun che non riesce a capire la causa di questa infezione voleva solo dirmi qualcosa ma poi la connessione è saltata è morto e non è in circolazione purtroppo penso che sia successo qualcosa ma non riesco a capire bene che cosa maledizione era non era quello che mi aspettavo maledizione merda Ethan sono così dispiaciuto sono fottutamente dispiaciuto ma sembra che tu abbia ancora del lavoro da fare per noi sopravvissuti classico non possiamo arrenderci adesso mi senti non arrendiamoci vieni da me più tardi ragazzi nel prossimo episodio vedremo che cosa vuole Dave no aspettate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.